Ci scambiamo delle lettere sulla estetica, svolgiamo i nostri argomenti, le repliche, io replico, svolgiamo questo per arrivare a... sa che cosa mi ha risposto? Ma io il mio libro, io non mi intendo di estetica, come scrivi un libro così di estetica, mi dici che non ti intendo di estetica, dice il mio libro, io l'ho scritto in francese, per divertimento. Ma come tu per divertimento scrivi un libro così? Incredibile.